Ciao a tutti ragazzi qui è Vila Ciudini che vi parla in stavolta un nuovo video di Crash Noia! Ma che fai? Fai il video col buccone in bocca? Mi dici oggi andiamo a shoppare 150 euro! Quindi rimanete incollati perché stiamo per spendere 150 euro Avevo promesso che se avremmo superato oggi i 10.000 iscritti avremmo speso 50 euro E avevo promesso che se avremmo superato i 10.000 like in un video avremmo speso 100 euro Quindi totale 150 euro perché abbiamo superato i 10.000 iscritti In questo momento siamo a 12.928 e sono le 13.47 E poi abbiamo superato i 10.000 like Attenzione stiamo per fare lo spacchettamento di 150 euro ma vi lancio la sfida per domani Se supereremo domani i 20.000 iscritti spenderemo 100 euro in spacchettamento Ce la faranno, ce la faranno Spargete la voce, video di spargete la voce Ragazzi Ditelo da tutte le parti Da tutte le parti E in più se supereremo a questo video 15.000 like 15.000 like domani spenderemo a 300 euro Quindi se si avverano tutte e due le condizioni domani spacchettamento da 200 euro Adesso dovremmo shoppare 150 euro Che la prendo io Che la telecamera che sarebbe il mio cellulare Noi facciamo tutto quello che abbiamo a casa Allora premo io 99 euro Ciao ragazzi C'è uno ragazzi Mi sto autoregistrando Dai riprendi a me Dai che la prendi tutta stotta Allora 99 euro La password Lo sapete che la password è una cosa segreta Ognuno c'è la sua Non è che si può mettere su YouTube 100 euro ragazzi Quindi spacchettamento da 100 euro Adesso è quello da 100 Configurazione riuscita Ok vai mitico Tieni Tu l'iPad Piano piano Fammi godere di quello là che stai spacchettando Ok Mi sento un po' di audio Vedete me lo sento un po' da qui l'audio Che siamo senza audio Ok Vai mitico Oh 2636 monete Mi posso fare la torre di farinare al 7 Oh lo sapete che abbiamo anche un baule del clan Perché stiamo giocando su un clan Che ha creato un ragazzo Che si chiama i mitici E quindi abbiamo pure un baule del clan Oh gioco le epiche Madonna ragazzi Che spettacolo Oh commentate I vostri commenti No il principe al 5 No il principe al 5 Il principe al 5 Non posso fare Oddio Ma hai fatto o lo puoi fare Migliora Non me lo posso fare Con le gemme Migliora al principe Oh ragazzi Poi dopo guardatevi la battaglia Che proviamo a passare a Arena 8 Perché mi mancano solo 200 ruffei Sai che ce la facciamo Alessandra Arriva a Arena 7 o Arena 8 Eh Michele Gennaro Trocco un altro trocco Maledizione Trocco potente Come maledizione Trocco lo usiamo Alessandra Eh però Mica ce l'hanno danni tanti Per potenziarlo Capito Non hanno la doppione Sì Magico Magico Che Quanto è magico Eh? Che la tesla o la posiziona la tesla Sì Arcieri Dai No la sfera di fuoco Non vedi la sfera Non vedi la sfera La sfera di fuoco no Eh dai te lo prego No mi piace Ma dai cambia il deck Dai Allora Che mi potenzo Il principe al 5 O la fune al 5 O la Ma il principe è quello che diventa Quello principe nero Quello lì No Qual'era il principe nero? Il principe nero è questo Che me lo posso fare al 4 Però è più forte il principe Perché lo uccide il principe nero Vabbè ma fa quello che ti parla Principe o torno infernale Torno infernale Come iniziamo dai Oh mi posso posizionare con il principe nero Mi sono posizionato O rimettete incollati Che abbiamo altri 50 euro Da spendere in questo video Eh Quindi ragazzi C'abbiamo ancora un po' di pauli Oh intanto per avere i 200 euro Di spacchettamento di domani Cominciate a mettere il pollice in su Devo essere 15 mila per avere Anche domani 200 euro Epica Epica Comune epica Rara Comune epica Il contrario Potenziale Il contrario di quello che dovrebbe essere Allora facciamo così ragazzi Prima questi 100 euro Stiamo potenziando Facciamo due partite E poi 50 euro Leggendaria Sprecone elettrico No che è Lo sprecone elettrico Appena lo lanci C'è la scarica Va bene Dai facciamo una partita Da destra Dai potenzia ancora No ma devo spacchettare un altro Ancora c'è ancora c'è da spacchettare Dai speriamo che ce la facciamo un'altra Niente sono una epica Sennò mi rinforzano vero? Sì Vabbè dai Dai 50 euro No no Facciamo una partita adesso Una partita Ok con lo stregone nuovo Dai con una partita Con lo stregone nuovo Poi dopo facciamo 50 euro Poi dopo non ancora partite Ragazzi siamo troppo forti Ci abbiamo tutta l'arena 7 Ma che siamo Arena 7 siamo Papà Ci abbiamo tutta dei gatti Della arena 7 E noi che rinassiamo adesso 7 Dobbiamo passare 8 Forza dai Certo Vinci Alessandro Vinci per noi Alessandro Vinci per noi Ok Mettiamo i cosi I miei diamanti eh Subita Guarda come torrono Mamma mia come torrono Sono 10 Lui e loro Sono fiacchetti Dai Alessandro Non sono fiacchetti Guarda quanto Guarda quanto Guarda quanto Hanno sbattuto Guarda quanto Gli hanno torrono Dai 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 Pronto Contrattacco dei principe E rullo Ah no Troppo gliela fa A tono gliela fa Dipende qualcosa Sì Vai dai dai Ecco Bello il principe Ancora c'ha metà vita Ce lo fanno fuori il principe Eh però La principessa Non ce lo fa Elettrica Elettrica Madonna Donna come scarica Come torre Quello elettrico Quello elettrico Può uccidere Due torri Vedi che uccide la torre E anche No io quell'elettrico Lo voglio assolutamente Al 5 Estremo E subito Quindi voglio Voglio spendersi 200 euro domani Ragazzi Aiutatemi a spenderli Spolliciamo Ragazzi Adesso E subito Per 15.000 like Ho detto 15.000 like E iscrivetevi Domani a scuola Ditelo a tutti Di iscriversi Dobbiamo arrivare A 20.000 iscritti Domani Così domani Si spendono 200 euro Perché è giusto Che i soldi Non marcis Nel conto Nel conto Eh che cavolo Eccolo Stupone Dai 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 Che andiamo Verso i 13.000 Mentre siamo in diretta Ragazzi Sa 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 Sì Stiamo vincendo Non ci hanno fatto Nemmeno troppo danno Alla sa Che tutto Stai La torre Stai fuori Si Lui non mi ha fatto Nemmeno fuori Il principe Ragazzi Il principe Ve lo consiglio Il principe Ve lo consiglio Le potenziare E poi dopo Tutto è in discesa Mi servirà tantissimo Sempre Perché Togli un botto Stai con la torre Spare via la litana Al centro Ragazzi Alessandro attacca Al centro E il nostro avversario Non ne ha fatto fuori Neanche una torretta Guardate Rimasta a bocca aperta 3 2 1 Olle Grande Grande Spolliciamento Per Alessandro Che festeggia Festeggia Mangiando un pezzettino Di bruschetta Adesso Dammi Con una mano Prendi quella Con una mano Prendi il telefono Inquadra papà Vai su 50 euro E spendiamoci Altre 50 euro Prendi il telefono Mangia Che sei appena tornato Di scuola Hai bisogno Di carboidrati 49 Acquista La password È una cosa segreta Perché non me la chiede Che non ha capito La configurazione è completata Ah Perché l'avevo già messa la password L'ha ricordata Per un quarto d'ora Pensa che fortuna Possiamo spendere soldi Senza neanche perdere tempo A digitare la password Fantastica Alessandro Fantastica Quindi è la seconda volta Che abbiamo da fare I tuoi acquisti Da 100 euro Un secondo Lo fai Senza chiedermi la password Appa Ma con i supermagici E con le immagini Prima le immagini Ci hanno fatto Trovare l'ostra Con le lette No 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 Supermagico Assolutamente Supermagico Vai 3.000 monete Tutto su Ragazzi Ebbia 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 No Ebbia Non ce l'avevo Ma la fanno due Due novità Ragazzi Oggi Qua ci festeggiamo I 13.000 iscritti E proprio Quei tanti Che domani Ce la facciamo A spendersi 200 euro A posto di che La metto A posto di che lo metti A posto Del domatore Della torre Che è difensivo Sto l'onio di ghiaccia Le sa Difende No Attacca E' buonissimo Per attaccare Allora via 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 A posto del domatore Facciamo il deck Leggendario Leggendario Con tutte le mie Leggendarie No amici Ragazzi Pensate domani Quando le potenziamo Di 200 euro Ok Ma un'immagici Adesso 10 leggendari Ma un'erica Ecco Che la dobbiamo Aprire un'altra Vai Tanti pauli Maggi Da aprire Ragazzi No 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 Che emozione Ragazzi Sì Alessandro Ti piace questo hobby Dello spacchettamento Ragazzi Mi piace tantissimo Quindi troverò Tutte le leggendari Baro a baro O lo faremo per voi Arriveremo Nell'arena 9 No Arena 9 10 E dopo che c'è Dopo non c'è niente Lo devono ancora fare L'arena 9 No però c'è quella mitica L'arena mitica Io voglio andare Io voglio andare A ritrare i miti Io voglio diventare Una leggenda Epica leggendaria Miniatore che non ce l'avevo Un miniatore Colpo di scena Ragazzi Colpo di scena Oh Ci facciamo il deck leggendario No Deck leggendario Che tolgo Che tolgo No quello non lo puoi mettere Dai che cos'è Quello che fa Il miniatore Il miniatore È del tacco Va a subire addosso la torre Alla posso del principe Dai posso del principe Ma dispiace che c'ho il principe Super potenziato Ma lo lasciamo Là In panchina Ma vi rendete conto Lasciare in panchina Una carta che sta Cosa potente Pronti ragazzi Ci abbiamo Tottissime leggendarie Mamma mia Questo che sta in arena 7 Vede uno con tutte Ste leggendari Dice ma dove sono In paradiso Diciamo no Amico Sei all'inferno Sei capitato Contro mille Accendini E la tua ora E la tua ora è segnata Non puoi fare altro Che perdere Non ce la fai Guarda Guarda il miniatore Cosa fa Madonna Ma sono Sopra i cosci Non se l'aspettava Questa mossa Il nostro amico Ma di Moldova Ma di Moldova Gli stiamo facendo Tanto male Tanto tanto Dolore Guarda La ghiaccia La zuppa E della bandiera italiana Oddio Oddio Avete visto La gala Principessa Che bug Madonna Che sbriscola Che gli hai lanciato Quanto gli hai fatto male Dolore Dolore Vogliamo Solo Dolore Al nostro Nemico Nemico Minatore Minatore Grazie Minatore Hai fatto bene Usarlo Ma lo voglio potenziare Domani con i 200 euro Dello shopping Di domani Lo facciamo diventare Tosto 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 Vediamo Però questa attacca È riuscita a arrivare Alla torre Non vorrei che ci fosse Il colpo di scena Con la sconfitta Proprio all'ultimo All'ultimo Monete Ragazzi Grazie per le iscrizioni Vedete Noi vediamo i vostri commenti Nel momento Sì Sì Il colpo di sconfitta Guarda cosa gli fa Quando cade Proprio T'è una scossa Oh ti stanno a badde Con tutte ste cose Dai una torta Mi ha fatto fuori Vediamo C'è frio Secondo me ci abbiamo Abbastanza difese Ecco Bella Bella Botta Ragazzi Che tattica Alessandro Stai attaccando A tutto spiano Madonna Come attacca Quello che vi piaccio Dai 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 Stai facendo male Non ti difende Buttati tutto sull'attacco Non ti difendere Non ti difende Alessandro Buttati sull'attacco Non ti difende No Buttati sull'attacco Dai Dai Facciamo fuori la torre Dai Ti manca poco Loro provano attaccarti la torretta E tu vai fuori la centrale Vai Tutto sull'attacco Tutto sull'attacco Dai Dai Non ce la fanno Non ce la fanno Forza Ale Dai Toi un altro botto Guarda lo devo fare Su 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 Il principe di ghiaccio Facci sognare Principe di ghiaccio Dai Passiamo ad arena No È grande È grande Mitico Dai con i pollici mitici Adesso mancano altre 60 cose Per passare ad arena Facciamo ancora un'altra partita Vi confesso Che avrei voglia Di sciopparmi Al 50 euro Ma mi trattengo Fra un giorno In 16 ore Ci abbiamo il baule del clan Però Cioè Cioè Questo qua Me lo posso fare Al 4 E a forte Eh E usalo Adesso usalo Non lo cimitero Con lo con Di ghiaccio Ma lo cimitero Brava E adesso non c'è Qualc'altra cosa No 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 Tutto sull'attacco Mi hai fatto Mettere tanta roba Che sull'attacco Oh questo Questo è il problema Guarda Guarda Arbira E con due mazzati E parte Sì Tutto un po' di ghiaccio Guarda Barbariscenti Questo è il problema Barbariscenti Tegli altri Adesso C'è il problema Un colpo di ghiaccio C'è Belli Barbariscenti Vedi Questi ci vediamo Di sempre Fanno danno Eh No al centro Alessandro Ma l'ho messa al centro Ma l'ho messa di lato Non è vero Non è vero A me mi sembra Un po' spostata Verso destra Vai 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 Il tronco Vai 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 Questo mi piace Hai fatto bene Ammetterlo Questo mi piace Speri che mi vuole attaccare Tanto a questa torre Stai allaggando Dai dai L'ultima partita Forza Vabbè Abbiamo la batteria Per così Per quasi finire Guardate 5% 4% Dai dai Ai 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 vai avanza principe non ci arriva passo la luna lo schermo così almeno dai ragazzi dai 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 all'ultima è finita ragazzi ciao mitici ciao mitici vai interrompo se no interrompo la registrazione ciao ci vediamo al prossimo video di Clash Royale allora ragazzi mi ricordo che a 15.000 like shopperemo 200 euro a 15.000 like 100 euro e a 20.000 iscritti 100 euro dai che siamo arrivati 200 euro domani ciao ciao Grazie a tutti.